Buonasera a tutti e ben ritrovati all'appuntamento con i nostri approfondimenti settimanali, gli speciali del telegiornale. Buonasera al direttore Mauro Mazza. Torniamo a parlare di politica perché come più volte abbiamo detto la politica c'è sempre degli spunti per poter fare dei mini dibattiti. Quello che in questo momento colpisce, mi riferisco alla politica nazionale, entriamo subito nel cuore del tema, è di un Renzi sempre in difficoltà. Man mano che andiamo avanti, man mano che facciamo le nostre trasmissioni, lo troviamo sempre più in difficoltà. Siamo partiti dalla debacle del referendum per arrivare pian piano alla scissione, poi a una perdita di consensi, le amministrative che sono andate male e quindi tutta una serie di passaggi che ci dicono che è in progressiva caduta. Mentre dall'altra parte abbiamo un vecchietto arzillo, Silvio Berlusconi, che invece è in progressiva ascesa e sta guadagnando sempre più, sta riprendendo sempre più consensi, ma soprattutto autorevolezza e lo rivediamo in tv, lo rileggiamo sui giornali con sempre maggiore frequenza. Sembra essere diventato di nuovo un leader politico a tutti gli effetti, con possibilità di fare quello che ha fatto già negli anni 90, e cioè di indirizzare il voto degli italiani, approfittando di questo momento molto molto complicato della situazione politica italiana. La politica italiana offre sempre delle sorprese a saperla leggere quando non ci si annoia troppo e non è troppo noiosa. Se noi questo dibattito l'avessimo portato un anno fa e dicessimo le cose che oggi diciamo, spinti da quello che accade, saremmo ricoverati con la camicia di forza. E invece ci troviamo davvero in Renzi, non soltanto in progressiva caduta di credibilità, di consenso, di gradimento, diciamo così, ma anche nella difficoltà di trovare la chiave per poter risalire la china. Allora c'è stata l'ascissione del PD dopo il suo ritorno alla guida del partito, però anche chi è rimasto, penso al ministro Franceschini soprattutto, che ha una consistente rappresentanza di suoi amici dentro il Partito Democratico, sono sempre più distanti da Renzi, che sembrano mai allontanare più che attrarre. E questo in prospettiva elettorale è un problema enorme. Dall'altra parte c'è Berlusconi che quando sente invece l'odore della campagna elettorale, da sempre, da più di vent'anni, ritrova spinta, entusiasmo e voglia di fare e di aggregare. Siccome i politici, sai, hanno il nasometro, chiamiamolo così, le antenne sempre alzate, il fatto che da alcune settimane, prima uno, poi due, poi tre, poi dieci, si siano riavvicinati, perché spesso ne erano andati in tempi di disgrazia, diciamo così, tre, quattro, cinque anni fa, si siano riavvicinati a Berlusconi, significa che cosa? Che Berlusconi, e quindi questo pezzo del centro-destra, ha ritrovato una capacità attrattiva che si pensava non avrebbe più avuto, tra l'altro. Non dimentichiamo che c'è anche il Movimento 5 Stelle. Io, se posso dare un'indicazione a chi ci segue... Sì, quello come sempre, ma trattato a parte il Movimento 5 Stelle, perché... È un capitolo a parte. Perché è un capitolo a parte, è proprio un caso a sé. Però ci sarà in autunno un test importante. Eh, in Sicilia, molto importante, esatto. Da molti, quel test delle regionali in Sicilia è considerato la vera premessa di quello che potrà accadere nelle elezioni della prossima primavera, quelle nazionali. Chi vince in Sicilia ha buone chance di giocarsi, essendo tre elementi. Al momento, paradossalmente ma non troppo, delle tre componenti, 5 Stelle, Partito Democratico e Centro-Destra, la parte più in difficoltà sembra essere il Partito Democratico. Che 5 Stelle sono in solitudine, troveranno il candidato giusto per giocarsi la partita. A destra pare che ci sia un nome sul quale potrebbe raccogliersi il consenso, che è quello di Musumeci, che ha una storia di destra, missina, alleanza nazionale, poi di grossa presenza anche sul territorio catanese, soprattutto, sul quale si sta aggregando diverse componenti, non solo di destra, ma anche di centrodestra, che lo stanno spingendo. L'ipotesi che possa essere Alfano, il candidato che raccoglie al Senato, mi sembra più una cosa di pre-campagna elettorale che non di campagna elettorale. Difficile visto il trascurso. Nell'attesa però che si veda la partita siciliana, c'è un'altra partita che comincia, e che porteremo avanti ancora nel tempo, quella della partita della legge elettorale. Opinione personale, non si farà un'altra legge elettorale. Però c'è una cosa, c'è il Quirinale che insiste perché si faccia la legge. Che legge allora? Potrebbe ripartire dal modello tedesco che poi si è arenato alla prima votazione parlamentare, ti ricordi qualche tempo fa, Commissione, Accordo, 5 Stelle, quindi Forza Italia, si va in Parlamento, in aula, prima votazione, franchi creatori, e quella legge viene uccisa sul nascere. Ci sarebbe una possibilità, che si chiama premio di coalizione. Che significa? Con la legge attuale, con cui molto probabilmente andremo a votare in primavera, ci saranno singoli partiti che si presentano le elezioni con la prospettiva chimerica, utopistica, di arrivare al 40%, dove non arriverà nessuno dei partiti in campo. Non ci sono i numeri. In caso di coalizione, invece, la legge spingerebbe a mettersi insieme, a prefigurare delle maggioranze. Coalizione dichiarata prima? Dichiarata prima, ovviamente, con un candidato premier. Il centro-destra, nonostante le differenze e i contrasti che esistono ancora tra Salvini e Berlusconi, per esempio, è delle tre componenti del quadro politico, quella che teoricamente potrebbe trovare la quadra, nel caso di anche 35 potrebbe bastare se si abbassasse la soglia. Il problema è trovare chi sponsorizzare, chi portare al... Ne parliamo tra un'altra cosa, volevo dire che 5 Stelle andrebbero comunque in solitudine, difatti combattono l'ipotesi e la contrastano del premio di coalizione, ma anche il PD di Renzi non vuole questa cosa. Renzi dice, è un dibattito assurdo, quale premio di coalizione? Che sa benissimo che se invece del premio alla lista scatta il premio alla coalizione, Renzi è fuori. Perché fare una coalizione è sicuramente esattamente con Bersani, con Pisabia, con D'Alema e la prima condizione sarebbe sì, d'accordo, ma via Renzi. Quindi può diventare però questo del premio di coalizione, un'arma per chi anche dentro il PD vuole contrastare Renzi e magari impedirgli o quasi di arrivare alle elezioni come candidato premier. Questo è il vero tema, questo è il vero tema. Vedremo come andrà a finire, però è la partita presentata... Ma questo passerebbe attraverso un nuovo dibattito interno al PD che mette in discussione Renzi. Perché vedi, se si parla di provare, sarà difficile comunque, ad andare ad una maggioranza che possa governare il Paese grazie alle elezioni, quindi grazie a una legge elettorale che favorisca questa cosa, è il premio di coalizione la cosa che può favorirla più delle altre. Ma Renzi sa che se passa una legge col premio di coalizione, lui è fuori da ogni gioco. Però una domanda volevo farti sul Movimento 5 Stelle. Tu dici non vuole le coalizioni, non vuole... Ma cosa cambia, visto che i numeri del Movimento 5 Stelle sono quelli e sanno che da soli, poi è una loro scelta di diventare da soli. Puntano ad arrivare primi, sicuramente possono farcela. Puntano ad arrivare primi da soli, primi ma non primi al punto da poter garantire stabilità. Io credo che Griglio e Casaleggio abbiano in mente una scena di questo tipo. Si va alle elezioni ognuno per sé. I 5 Stelle arrivano primi, cioè sono il partito più votato, ed è una prospettiva abbordabile, non al 40%, ma meno, ma comunque diventa più votato. Ed è evidente che il Capo dello Stato darebbe l'incarico di tentare di formare il governo a un esponente dei 5 Stelle. A quel punto, volendo restare sempre in solitudine, i numeri non ci sono in Parlamento, però tutti gli altri partiti potrebbero decidere di... Piuttosto che tornare alle elezioni o un governo che non governa, appoggiare dall'esterno un governo che è targato 5 Stelle. Appoggiare dall'esterno significherebbe comunque da parte del Movimento 5 Stelle andare a cercare questi appoggi esterni. Con un programma che è presente in Parlamento, con accordi ovviamente che si fanno prima che il programma venga steso, i ministri che vengono scelti fuori dal Parlamento, ma con nomi graditi e apprezzati anche da altri... Ma il Movimento 5 Stelle è pronto a questo oppure no? E chi lo sa. Perché il Movimento 5 Stelle ci ha abituati a... Sai, l'esperienza, l'esperienza... Conoscendoli non vogliono parlare con nessuno, non vogliono fare accordi con nessuno. Io sono romano, Francesco. C'è stato un tentativo sulla legge elettorale, come dicevi tu, ma sono stati popolori prima a scappare. Io sono romano. Non vale per tutto quello, ma l'esperienza del governo della capitale italiana da parte dei 5 Stelle, diciamo che non sta andando risultati che chi ha votato i 5 Stelle ci aspettava. Eppure col sistema delle comunali c'è la possibilità di governare. Certo, ci sarebbe teoricamente, è vero, Roma è reduci da decenni di cattiva gestione, cattive amministrazioni, però che in oltre un anno non ci sia stata una cosa riformata, raddrizzata, che faccia dire ai romani, beh, almeno questa cosa... L'hanno messa a posto. L'hanno messa a posto e non c'è, non c'è niente. La cosa è, la vita a Roma è oggettivamente e generalmente peggiorata rispetto a un anno fa. Hanno evitato la razionalizzazione dell'acqua, però. Hanno fatto, sì, però sperando che piovano, hanno fatto la danza della pioggia, insomma, non è così che si governa la capitale di questo paese. E quindi se questo è tanto, mi dà tanto, se la domanda è che mi hai fatto, sono pronti, ho dei dubbi sul fatto che siano pronti. In entrambe le cose, cioè pronti a governare, ma pronti anche a rimettere in gioco il loro ideale, che è quello di andare avanti da soli. Perché altrimenti... Sì, la politica fa migliare. Per questo gli chiedevo cosa cambia per loro, visto che i numeri non li hanno. La loro intenzione è quella di non mettersi d'accordo con nessuno, non parlare con nessuno. Per quale motivo? Per arrivare a una prospettiva, secondo loro e non secondo me, che consenta a chi sarà indicato dal primo partito, quello sperano di essere... Di avere qualche chance. Di andare in Parlamento e dire questo è il programma, questa è la scuola di governo, a chi è d'accordo nel provare a governare in questo modo, voti la fiducia. E questo potrebbe accadere per il timore generale di tornare al voto due mesi dopo l'elezione. Facciamo un passo indietro, Gentiloni che sta governando... Fa il suo, fa il suo, lo fa nella situazione data direi abbastanza bene. E l'Antirenzi, sai, non volendo, non volendo esserlo, è l'Antirenzi in termini di discrezione, di sobrietà, di moderazione, è l'Antirenzi che invece è entrato con la scimitarra e continua a brandirla oggi però al vento, mentre il governo Gentiloni... Ma ha chance Gentiloni per poter essere riproposto? Forse non formalmente, non vedo Gentiloni come figura che il PD possa proporre come confermato a Palazzo Ghigi in caso di vittoria del PD all'elezione. E' niente che se vince il PD ci torna Renzi a Palazzo Ghigi. Però può essere in caso di esito elettorale in bilico, una soluzione... Può essere l'asso della manica del Presidente della Repubblica, quindi proviamo a formare un governo, diamo l'incarico a Gentiloni... Potrebbe essere, potrebbe essere. In tal caso si replicherebbe la situazione attuale in pratica. L'attuale bisogna vedere se... Ci sono alcuni sondaggi elettorali che danno al PD diverse decine di deputati in meno rispetto a oggi. In quel caso il PD avrebbe bisogno di voti e di voti parlamentari che credo potrebbe provare a trovare dall'altra parte in casa Berlusconi, diciamo così. Addirittura? Eh, credo di sì. E potrebbe trovare ascolto, non ricevere porta in faccia in quel caso. Sempre di incertezza post-elettorale, non è detto che sia così. Eh, ma c'è un'altissima probabilità. Che dopo il voto si finisca nell'incertezza. Più ancora di oggi, più ancora di oggi, più ancora che nel 2013, quando vinse Bersani, ma non vinse, e non riuscì quindi a formare un governo, e cominciò l'ascesa di Renzi al suo posto e poi a quello di Enrico Letta che governava a Palazzo Chiesa. Stia sereno. Stia sereno. Stanno tutti molto sereni in questo momento, per la verità. Nessuna certezza. Comunque Gentiloni non è del tutto fuori dai giochi. No, no, anzi, anzi, se la sta giocando, lavorando la sua partita personale. In silenzio, forse troppo in alcuni casi. Forse troppo, forse troppo. In alcuni casi forse troppo, però... Anche come la vicenda con la Francia, per esempio. Significa timidezza dell'Italia verso gli altri, diciamo, non è incoraggiante, non è entusiasmo nessuno. È un nostro retaggio storico. È storico, ma è anche figlio della moderazione genetica del personaggio e della debolezza oggettiva del governo che presiede. Torniamo un attimo ai Cinque Steri, solo per dire, poi ci sono i soliti Di Maio, Di Battista. Chi sarà il candidato premier? A me risultano alcune cose, Francesco. A me risulta che il tandem Beppe Grillo e Casaleggio hanno molti dubbi sulla possibilità che De Maio, che si dà tanto da fare e che è il nome più accreditato, possa essere pronto per essere lui. E a settembre-ottobre dovrebbe scegliere su chi puntare il candidato dei Cinque Stelle per Palazzo Vici. D'altra parte è più irruento, forse più amato, più ben voluto dalla base dei Cinque Stelle Di Battista, il romano Di Battista rispetto al campano Di Maio. Però Di Battista avrebbe anche lui dei limiti oggettivi di competenza, di esperienza, di mestiere della politica e del buon governo. Tant'è, noi lanciamo qui qualche mese fa, mi ricordo benissimo, l'ipotesi suggestiva che dal cilindro di Grillo potesse uscire un altro nome, quello di Milena Gabanelli, la mamma di Report, la grande giornalista di inchiesta. Proposta già come ipotesi di Presidente della Repubblica. E quel nome è sempre lì, non è stato sconfessato, smentito. Nemmeno da lei, in linea di massima. A lei, faccio un mestiere giornalista, non so nemmeno che simpatia abbia verso i Cinque Stelle, non ostilità sicuramente. Ma io ricordo che alcuni mesi fa bussarono anche ad altre porte per cercare consensi in magistratura, bussarono la porta per il Pier Camilo Davigo che era stato nel Pool Mani Pulite, hanno avvicinato anche altri magistrati, ma senza trovare ascolto fino in fondo. E sono tornati probabilmente all'ipotesi di Gabanelli che è lì sullo sfondo. E' donna, è apprezzata per le sue battaglie civili di giurismo di inchiesta che ha fatto dagli schemi televisivi, e quindi è un nome sul quale non... Avesse un euro da puntare potrei puntarlo sui ipotesi di Gabanelli. Ricapitolando quel gabanetto fino ad oggi, per quanto riguarda il centrosinistra... Oggi è Renzi. Un centrosinistra, per il PD, un centrosinistra qualizzato, qualizzato non è più Renzi. Movimento 5 Stelle di Battista, di Maio, ma possibile terzo nome fuori dai giochi, nel senso fuori dal loro sistema, fuori dalla loro logica di partire, potrebbe essere Gabanelli. Centrodestra possiamo fare più o meno un discorso simile a quello del centrosinistra, e cioè un candidato in caso di coalizione, tanti altri candidati, ovviamente in caso di non coalizione. Se la legge rettuale resta questa... Se la legge rettuale resta questa... Salvini guida la Lega, Giorgia Meloni guida i Fratelli d'Italia e... Dico Mara Carfagna? Mara Carfagna? Potrebbe essere il nome di bandiera. Di Forza Italia. E come sai, è come quando si va alle elezioni a Camere Unite per la scelta del Presidente della Repubblica, no? C'è il candidato di bandiera. Le prime votazioni, ognuno vota il suo, e poi tanto si fanno gli accordi. Quindi alle elezioni, se si va, ognuno... Cominciano a bruciare i nomi e poi dopo... Io credo che Mara Carfagna possa essere un buon nome, una bella figura di esperienza, anche di governo, è stato anche il Ministro, la Carfagna, di bandiera per tutta Forza Italia. Salvini con la Lega, la Meloni... È stata anche Shogher. Viene, viene dal mondo della televisione, sì, sì, sì. Era anche molto brava, in Rai ha fatto programmi con Michele Guardi per qualche anno, poi è stata folgorata, diciamo così. La politica. Però è una donna che ha studiato, cioè si è impegnata nel fare questo nuovo mestiere, questa nuova vita. E credo che sia, da questo punto di vista, apprezzabile lo sforzo titanico che ha fatto personale per entrare a pieno da protagonista della logica e tant'è che può ambire anche o essere indicata da Berlusconi come candidato di bandiera per Palazzo Figgi addirittura. E se cambia la legge elettorale... Ah, nel caso dei primi di coalizione, diciamo, ecco, centrosinistra sappiamo che non potrebbe essere Renzi. E non è Renzi, quindi discutiamo Renzi e centrosinistra. E diciamo Gentiloni... Il Movimento 5 Stelle è in una situazione simile, sia che cambia o che non cambia la legge, deve scegliere quello più spendibile. Però scusami, se si va da sola, da soli, e deve pensare a un governo che convinca qualcun altro... Deve cominciare a pensare anche a mettere... E difficile pensare a De Maio e Di Battista, pensare a quello che era per il 5 Stelle... Rodotà, no? Deve essere qualcuno che non sia perfettamente caratterizzato dalla donna del lì. Esattamente, deve essere apprezzato da un vasto fronte. Quanto meno apprezzato personalmente, intanto da tutti, per poi poter... E dall'altra parte, sai, centrodestra, io so che Berlusconi, quando ha lanciato diversi nomi, li ha buttati lì tanto per dividere il fronte, il governatore del Veneto, Zaia, Crudo della Lombardia, Maroni, ogni tanto lancia anche la Giorgia Meloni, è stata detta, ma è una donna, giovane, vediamo, pur che non sia Salvini, diciamo, lo dice provocatoriamente. Però se si ragiona seriamente, e mi risulta che da quelle parti si cominci a ragionare seriamente, nel caso il centrodestra si unisse, qualcuno non esclude nemmeno che possa riunirsi anche con questa legge, cioè fare un'unica lista elettorale, un'unica lista, listone, per puntare al 40%. Ma quindi cancellare i partitini, chiamiamoli così, per numeri, non perché siano meno rispettabili degli altri. Lasciare i partiti, ma presentarsi alle elezioni con un'unica lista elettorale, con tutti i candidati dentro. Quindi deve passare la legge? No, applicarla. Anticipare la legge? Applicarla. Applicare di fatto una legge che non è quella attuale, in pratica. E sarebbe un grosso segnale di maturità, però. Su questa posizione c'è Toti, il governatore della Liguria, che con questa logica ha vinto diverse passaggi elettorali, mettendo tutto insieme il centrodestra. Sai, lo profumo di vittoria, l'idea di poter vincere può aiutare molto. E sarebbe un segnale, a mio visto, di maturità. Però a quel punto bisognerebbe trovare un candidato premier, che possa essere credito a tutti. E chi può essere? Non c'è sicuramente nel panorama politico. Non può esserci, perché sarebbe comunque estrazione di una delle forze in campo. Allora, siccome Berlusconi ha sempre detto, dalla società civile prendiamo personaggi, troviamo, io stesso, del fare... Chi è il personale? Tu ci stai arrivando piano piano. Io credo che lui stia pensando a un qualche figura di manager che ha ben fatto nella sua carriera non politica. Se dovessi oggi indicare un nome che risponde a chi ha questa fattezza idea di oggi, che potrebbe essere Flavio Cattaneo, che è il Reduce, sì, dalla polemica sulla sua buonuscita a Telecom, però ti posso assicurare che da quando era mio direttore generale alla RAI, quando è andato a Terna, quando è andato poi a Italo, Treno, e poi a Telecom, ha non soltanto migliorato i conti, ma li ha portati in attivo. Ecco, la sua buonuscita che ha tanto impressionato e ha creato polemiche è dovuto al fatto che lui ha raggiunto in pochi mesi quei risultati che doveva raggiungere in tre anni. Cioè lui, dove non ha fatto, ha fatto benissimo. Però immagina l'italiano medio al primo provvedimento di taglio delle pensioni o di... Ma no, 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 come reagirebbe? Corri troppo, diciamoci, già lo vedi a Palazzo Chici. Io già lo vedo a Palazzo Chici. Primo provvedimento, tagliamo le pensioni. Però siccome in politica è passo dopo passo, passo dopo passo, step by step. Il primo step sarebbe Flavio Cattaneo gradito a tutta la coalizione, come non politico, uomo del fare, direbbe l'ex cavaliere, e quindi in quel senso affidabile, perché dove ha fatto, ha fatto bene. In quel caso io credo che l'ostacolo maggiore, conoscendolo, sia convincere Cattaneo della necessità di fare questo passo, di rinunciare, di cambiare mestiere. Di rinunciare di godersi i 25 milioni di euro. Diciamo una battuta. Però può essere una sfida. Ci salutiamo con una battuta. Dovrebbe parlarne in famiglia per decidere. E siccome la signora Cattaneo si chiama Sabrina Ferilli, allora sarebbe un bel dibattito, notoriamente di sinistra, notoriamente, no? Dentro quella logica politica per l'educazione familiare e per convinzione personale, in famiglia Cattaneo ci sarebbe un bel dibattito per decidere se è il caso di scendere in campo o no. Vedremo chi la sputerà. E soprattutto se è una mia suggestione, però tra qualche tempo sarà bene verificare. Grazie, grazie direttore, grazie anche per questa serata, per questo approfondimento sulla situazione politica nel nostro paese. Come sempre il direttore ci lancia anche delle provocazioni, delle suggestioni che sono anche delle provocazioni. Lo faccio sorridendo, ci mancherebbe altro. Grazie mille. A voi. E grazie di nuovo a voi per averci ascoltato, buon proseguimento con Udinese TV, ci vediamo la prossima settimana. Grazie mille.